Fantastico, ora fanno anche finta di non conoscermi. Sei preoccupata per gli esami da missione al college? No, io non andrò al college. Credevo avessi detto... No, l'hai interpretato tu. Vuoi prenderti una pausa per fare il volontariato? No. D'accordo. Che cosa vuoi fare? Io sto male. Vuoi che ti porti a casa? Ti sentirei merito? No, no, Landon. Sono malata. Ho la leucemia. No. Hai 18 anni, sei perfetta. No, non è così, l'ho scoperto due anni fa e adesso non rispondo più ai trattamenti. Perché non me lo hai detto? Il dottore ha detto che avrei dovuto cercare di vivere una vita il più possibile normale e non volevo che le persone si comportassero in maniera pietosa con me. Ti riferisci anche a me? Soprattutto a te. Landon, ormai mi ero rassegnata, l'avevo accettato, capisci? E poi sei arrivato tu. E non avevo bisogno di avere un altro motivo per essere arrabbiata con Dio. l'ultimo... Grazie a tutti